Partenza bagnata, chieti per la quindicesima edizione della settimana mozartiana, eventi tutti al coperto a causa del tempo perturbato. Apertura presso la Cattedrale di San Giustino con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, in collaborazione con i conservatori Casella dell'Aquila e Luisa D'Annunzio di Pescara e con l'Accademia Reatina Teatro e Musica. Questa sera in Piazza San Giustino, spazio alla lirica con il Don Pasquale di Donizetti, tra gli altri eventi da segnalare a Porta Pescara, l'omaggio a Domenico Modugno, il Mozart Classic nel chiostro Martinetti Bianchi, la vestizione della Dama della Settecento in Piazza Vico, lo spettacolo dei Burattini di Largo Teatro Vecchio. Domani le prime star, il batterista Roberto Gatto e i pianisti Ramberto Ciammarughi e Ramin Barami.